Siamo veramente lontani dagli stereotipi e dall'immaginario di qualche anno fa. È cambiato, è una professione altamente specializzata e specializzante, che richiede nuove competenti e soprattutto che credo possa costituire davvero un futuro importante per i nostri giovani. Abbiamo anche consolidato questo splendido rapporto tra la formazione professionale e l'istruzione professionale. Cosa non scontata, non ovvia, però anche oggi abbiamo intrecciato questo solido legame e la possibilità di poter dialogare con il Ministro su un argomento così importante, di grande attualità, che sta facendo discutere anche il mondo accademico, ma anche il mondo dei filosofi rispetto al cibo, alla nutrizione, alla salute in genere, è stata davvero una grande opportunità di crescita e credo che oggi sia la prima tappa di un percorso che ci porterà davvero ad una consapevolezza maggiore da parte dei nostri studenti verso questo grande evento che sarà il C7 e che si svolgerà a Bergamo.